Dopo vent'anni all'estero sono tornato in Italia per fare la differenza, per portare la scienza e la formazione al centro di un nuovo modello di sviluppo per il Paese. Ci credo fortemente e ritengo che tutti gli altri interventi che sono riuscito a mettere in campo finora, molti di carattere emergenziale, altri di carattere sistemico, abbiano senso soltanto se riusciamo ad intervenire con dei finanziamenti importanti che riportino il settore dell'università e della ricerca ad un livello di galleggiamento. Io non chiedo chissà quante risorse, abbiamo tagliato così tanto che dobbiamo tornare ad un livello di galleggiamento. Dai nostri calcoli un miliardo di euro ci permetterebbe di arrivare a quella soglia. Non vogliamo togliere fondi a nessun altro, l'ho detto chiaramente, non intendo rivendicare un miliardo per l'università da ricerca sottraendo magari dei finanziamenti alla salute o alle scuole, agli asili, ai comuni, ai servizi di base, assolutamente no. Infatti abbiamo fatto una proposta di alcuni interventi fiscali di carattere promozionale, cioè tasse che aiutano anche a dirigere i consumi verso dei mercati più responsabili rispetto a quello che accade oggi che possano riuscire a generare un introito di un miliardo da investire quindi per l'università e la ricerca perché sono fondamentali per rilanciare l'economia del paese. Se non dovesse avvenire io non esiterò un secondo a dimettermi da viceministro e tornare a fare quello che facevo prima. Entro quando però ci dovrebbe essere questo obiettivo? Entro la fine dell'anno, l'obiettivo è la legge di bilancio.